Dall'isola della Maddalena, al nord della Sardegna, si arriva attraverso un ponte sul mare a Caprera. Su l'unica strada di accesso, non un cartello, non un'insegna. L'isola sembra abbandonata. D'improvviso, dietro una curva, un basso muro bianco, di aspetto tropicale. Questa è la fattoria dove Giuseppe Garibaldi ha vissuto e lavorato come agricoltore. In fondo al cortile è una casa di piccole dimensioni, quella che Garibaldi costruì con le sue mani nel 1854, dopo il secondo esilio americano. La stanza da letto, piccola come una cella. Il tetto di cammi. Una porta per cui non si entra senza curvarsi. Un cammino di pietra. Finché non l'ebbe costruita, Garibaldi visse sotto una tenda. La casa più grande fu costruita due anni dopo, nel 1856. Aveva 49 anni. Nell'interno di essa oggi sono rimaste accessibili solo due stanze. I mobili e gli oggetti di un tempo sono stati sostituiti con lapidi e cimeli. In una delle stanze un pianoforte, regalato ad una delle figlie. In una vetrina il poncio e la camicia rossa, divisa che indossò la prima volta in Sud America e sempre portò in ricordo di quegli anni. Il tetto di camicia rossa, divisa che indossò la prima volta in Sud America e sempre portò in sud Europa. Grazie a tutti. 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 Teresina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. vedrai. hai visto? Grazie a tutti. sta attento fino alla lanterna passano sempre delle patuglie poi sarà più facile appena arrivo in francia ti scrivo grazie a tutti 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 ti scrivo da Marsiglia dal libero suolo della Francia dove la vita almeno è al sicuro anche se il domani si presenta molto incerto tu sei stato l'angelo della mia vita burrascosa malgrado i panni che mi hai dato più volte ho temuto di essere scoperto e ho dovuto evitare le strade avanzavo dentro i giardini e le vigne grazie a tutti ma Dio protegge i buoni teresino e finalmente ho visto un palazzo che mi accertava che mi accertava essere Nizza ormai vicino Nizza la mia città e dove ora giungevo travestito ricercato come un malfattore io che non ho fatto male a nessuno e perciò non mi sentivo disonorato ma anzi ridevo dentro di me la sola paura che avevo era di comprometto i miei genitori che certo la polizia teneva d'occhio per questo me ne andai da una mia zia un'anziana sorella di mia madre che speravo non avrebbe avuto niente da temere dalla polizia di Carlo Alberto solo che mia zia sai com'è una zia mi fu difficile spiegarle la situazione in cui mi trovavo non ho fatto niente zia non guardarmi così non sono un assassino me ne starò un po' di tempo in Francia intanto le cose si aggiusteranno vedrai te ne vai via così senza neanche vedere tua madre no non capirebbe e poi la polizia mi cerca giura che non mi tradirai che non dirai che sono qui a nessuno neanche a mia madre mamma Peppino mia madre mi venne a visitare il giorno dopo e fui contento di abbracciarla malgrado il pericolo che cosa avete fatto? ma è vero che vi siete messi contro l'è? altre persone che era costretta a far soffrire persone innocenti come te Teresina e io ero causa del loro dolore senti quando sarò in Francia ti manderò mie notizie in qualche modo a Nizza trovai anche due amici fidati due compagni della mia infanzia che vennero con me sino al fiume Varo sino al confine io mi gettai con gioia nell'acqua gelida malgrado tutti gli affetti e tutti i ricordi che mi lasciavo dietro io lasciavo una terra di servitù e avevo davanti la terra di Francia dove sarei stato esule sì ma tuttavia libero il vostro nome è Mutru Edoardo? sì signore e prestate servizio di leva nella reggia marina come marinaio di terza classe? sì signore da un rapporto risulto che avete disertato insieme ad un altro marinaio certo Garibaldi Giuseppe è tutt'oggi latitante conoscevate il Garibaldi da prima? sì signore siamo di Nizza eravamo amici fin da ragazzi questa amicizia vi ha portato a un passo molto grave e non mi riferisco alla diserzione ma alla cospirazione di cui il Garibaldi ci risulta essere uno dei capi io di questa cospirazione non ne so niente e pensate che io vi creda voi e il Garibaldi siete nati nella stessa città siete cresciuti insieme fate il servizio di leva insieme vi imbarcate sulla stessa unità disertate lo stesso giorno e volete farmi credere di non sapere niente dell'intenzione del Garibaldi insomma voi negate di essere a conoscenza di un movimento finanziato dall'estero è diretto ad attività criminali contro il governo di sua maestà il re Carlo Alberto lo nego sapete qual è la pena per il reato di cospirazione contro lo Stato? la fucilazione tenente Ray confermate quanto ha deposto il qui presente Mutru Edoardo? confermo per quale ragione foste avvicinata? vi prego di rispondere tenente Ray per ottenere la mia adesione alla congiura il Mutru sostiene di essere stato estraneo alla faccenda sostiene di avervi confidato il suo turbamento di essere stato trascinato dal Garibaldi voi dite invece che lì vi avvicinò con il Garibaldi esattamente nel corso della loro attività propagandistica è vero che in un secondo momento avendo io deciso di non aderire e spiegando le mie ragioni al Mutru egli mi sembrò impressionato e mi confidò che riteneva l'insurrezione un errore io tentai di indurlo a tirarsene fuori al che mi disse non poterlo fare senza tradire gli amici e che ormai il suo destino era legato a loro io ne trassi la convinzione che il Mutru fosse un ragazzo di cuore anche se fuorviato dal Garibaldi e perché voi tenente Ray non ne avete fatto parola al vostro comando? non avete sentito il bisogno di difendere il vostro re? ma non mi parve che il re corresse un pericolo troppo serio se devo essere sincero mi avvidi che si trattava di ragazzi molto giovani benché decisi beh, non tutti e che la polizia li controllava sagacemente sperai per lui che una lezione lo riportasse alla realtà ma esitai a denunciarlo poiché non lo ritenevo colpevole ovvero non meritevole della pena capitale riportate in cella il prigioniero vedete Conte Solari questi giovani sono molto fragili e a volte è soltanto un sogno che attraversa il loro cervello una denuncia comporta il plotone di esecuzione e il plotone di esecuzione crea da un illuso un martire propaga l'eccitazione e lo stegno viene ricordato come un eroe e forse era solo un debole o una canaglia scusate se mi metto al posto della polizia e della corte nel giudicare ma è quello che ho dovuto fare per scegliere un atteggiamento credo che l'onore mio e il nome della mia famiglia garantiscano che avrei certamente denunciato il tutto se avesse avuto sentore di un pericolo vi credo, tenente se detti loro l'impressione di aderire ai loro discorsi fu perché ero curioso di conoscere le ragioni di questi insubordinati così eloquenti a loro modo queste ragioni non mi interessano e per fortuna non ho di queste curiosità durante gli interrogatori appena sottoposti ad un po' di violenza dicono tutto eccetto il perché del loro modo di agire molti non lo conoscono allora cos'è? una malattia dei tempi inquisiti di alto tradimento militare cioè il Garibaldi, il Mascarelli e il Caorsi di essere stati i motori di una cospirazione orbita in questa città nei mesi di gennaio e di febbraio passato prossimo tendente a far insorgere le regie e truppe e a sconvolgere l'attuale governo di sua maestà di avere Garibaldi e il Mascarelli tentato con lusinga e somme di denaro effettivamente sborsate di indurre a farne parte alcuni bassi ufficiali del corpo reale d'artiglieria di avere il Caorsi fatto provvista a sì criminoso scopo di armi ritrovate cariche e di munizioni da guerra e gli altri sei imputati di essere stati informati di detta cospirazione di non averla denunciata alle autorità superiori e di esservi si anzi associati il consiglio di guerra divisionario sedente in Genova intese la lettura e la relazione degli atti sentiti gli accusati presenti nelle loro risposte il regio fisco nelle conclusioni e i difensori nelle difese il divino aiuto invocato ha dichiarato doversi condannare siccome condanna i contumaci Garibaldi Giuseppe Mascarelli Vittore e Caorsi Giovanni Battista alla pena di morte ignominiosa dichiarandoli esposti alla pubblica vendetta come nemici della patria e dello Stato ha dichiarato Parodi Enrico Dalus Giuseppe Canale Filippo e Mutru Edoardo non convinti allo Stato degli atti del delitto loro imputato ed inibisce loro molestia dal fisco Signor Pane Sì Capitano Signor Pane ho ancora una bottiglia di champagne ce la beviamo? È il mio turno di guardia fatevi sostituire dal nostro uomo vi aspetto in cabina grazie a tutti sono tre anni di fila che non faccio Natale a casa capita a noi marinai già capita accomodatevi non possiamo pigliarcela con nessuno è il mestiere che abbiamo scelto non è abbastanza freddo ma pazienza avete l'aria di non avere mai bevuto dello champagne? non a bordo di una nave ma questa è una nave francese signor Pane Felice Natale a voi Capitano spero che prima di arrivare in Brasile cambierete idea su che cose? volete sbarcare a Rio de Janeiro vero? sì vi osservo da quando siamo salpati da Marsiglia vi ho visto dirigere le manovre e calcolare la ruta siete un buon secondo molto in gamba anche se non sono d'accordo sul vostro modo di tenere la disciplina troppo confidenziale in certe occasioni ci vogliono i ferri non c'è niente di meglio signor Pane non so usare certi metodi imparerete se continuate a fare questo mestiere perché volete sbarcare a Rio? forse per via del carico che abbiamo a bordo perché? perché voi non siete il tipo di persona che approvi certi traffici di armi non è per questo signore e allora perché? scusatemi ma non posso dirlo mi dispiace rinunciare a voi in questi ultimi 18 mesi il vostro stato di servizio è eccellente comandante in seconda sul brigantino Unione capitano Gazan lo conosco siamo amici salvataggio di Joseph Rambaud 14 anni che stava per annegare un viaggio a Odessa ritorno a Marsiglia e nuovo imbarco su una nave tunisina una nave da guerra costruita a Marsiglia dovevo consegnarla al bei di Tunisi un compito importante poi un altro imbarco un legno turco da Tunisi a Marsiglia poi su questa nave non vi siete mai fermati nemmeno il tempo di tornare a casa già non sono mai tornato a casa signor pane voi non avete l'aria di uno che va a cercare fortuna in Brasile non sareste il primo esulo italiano che portano all'America del Sud siete ammischiati in qualche faccenda politica vero? padrone di non rispondermi un altro bicchiere? sì grazie un altro bicchiere? sì grazie sì grazie Grazie a tutti. 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 Un re a Parigi, uno a Berlino, uno a Napoli, uno a Torino, un imperatore a Vienna, uno Zara a Pietroburgo. Dove ti giri non vedi altro che teste coronate. Le stacchi una e poi ti stacchi, non serve tagliarli a pezzi. E gli uomini ricrescono come vermi. di più. E vendigli anche questi. Che si ammazzino. Tanto non sanno nemmeno per cosa muoiono. Credono di morire per la libertà, per l'indipendenza del loro paese e invece anche loro muoiono per l'imperatore del Brasile o per qualche tiranno argentino. E voi volete finire così in mezzo a gente che non conoscete e che vi considererà sempre come un nemico? Pensateci prima di decidere di sbarcare. Ho già deciso capitano. Dal rapporto inviato in data primo febbraio 1836, dal console del regno sardo, presso il governo imperiale del Brasile. Al ministero degli esteri di sua maestà il re Carlo Alberto in Torino. Oggetto. Ultime informazioni raccolte da questo consolato in Rio de Janeiro sulla condotta degli italiani qui residenti. Si segnala tra l'altro l'arrivo in questi giorni di un tal Garibaldi, o Garibaldo, suddito di sua maestà proveniente dalla Francia. Questo individuo si è subito rivelato come un pericoloso repubblicano, pubblicando con propria firma su un giornale di questa città, un articolo in cui chiama sua maestà Carlo Alberto, infame e vile tiranno. E accompagnandosi ai più noti avversari della legalità, rifugiati ed esiliati politici italiani e cattivi soggetti di ogni specie, tutti appartenenti alla miserabile associazione mazziniana detta Giovine Italia, tra i quali, come altre volte ho fatto, segnalo i nomi di Giovanni Battista Cuneo, professore e commerciante soprannominato Farinata degli Uberti, capo della congrega di Rio de Janeiro. Luigi Rossetti, soprannominato Olgiati, sedicente giornalista. Pare che in gioventù abbia frequentato un seminario, oggi fanatico propagatore di idee liberali. Luigi Fiorentino, marinaio, di cui non si conosce il soprannome, soggetto ignorante e violento. Raimondi, genovese, ha fatto diversi mestieri, anche il servo. Dice di aver militato nelle armate francesi. Michele Landi, livornese, scrivente, è uno dei redattori del giornale della Giovine Italia. Luigi Vaccari, maestro di musica, attualmente senza impiego. Come altre volte ho segnalato, gli appartenenti a questa cosiddetta Giovine Italia si riuniscono periodicamente in una tipografia sita nel centro della città e pare di proprietà di tale Giacomo Picasso, commerciante. Da informazioni raccolte risulta che in detto locale avvengano anche cerimonie di affiliazione alla setta. L'immagine del bandito Mazzini, le sue parole perniciose, che nel regno di sua maestà nessuno osa diffondere se non in modo illegale, sono qui pubblicate impunemente dal giornale di detta setta, ovvero il nome del Mazzini è opposto a quello di sua maestà, come se gli appartenenti alla setta gli attribuissero poteri di sovrano, nella speranza di un'immaginaria rivoluzione. Cos'hai da guardare? Mi sembra di averti sempre conosciuto, mi è successo anche la prima volta che ti ho visto. Come lo spieghi? Ma non lo so, comunque ti capisco il volo, capisco per esempio che neanche a te piace fare il commerciante. No, ma che altro possiamo fare qui? Se lo sapessi non continuerai a trasportare grano da un punto all'altro del Brasile. Quello che so invece è che non dobbiamo perderci danni e tenere sempre presente lo scopo della nostra vita, come dice Mazzini. Garibaldi in età matura ha pubblicato un libro di memorie dove si raccontano tra l'altro le sue esperienze di esule politico e di combattente per la libertà e in terra d'America. Al capitolo 5 si racconta di una sua visita per conto della giovane Italia al conte Tito Livio Zambeccari, bolognese, catturato dalle truppe brasiliane durante le operazioni intese a reprimere un moto di indipendenza di una provincia dell'impero del Brasile, il Rio Grande del Sud, che si era proclamata Repubblica. A capo di questo movimento di indipendenza si era posto un personaggio ancora oggi ricordato nello stato del Rio Grande, Bento Consalves. C'è una visita per voi, vostro cugino. Livio Caro Livio Vi prego, pochi minuti Sono della giovane Italia, signor Conte. Ora e sempre. Il mio nome è Giuseppe Garibaldi. L'associazione mi ha chiesto di mettermi in contatto con voi. Vivete a Rio? Da poco. Per questi fratelli hanno scelto me. Qui la mia faccia non è conosciuta. E neanche quella di mio cugino, per fortuna. Sedetevi. Ditemi di voi. Dei fratelli di Rio. L'associazione funziona. Il nostro capo, il fratello Cuneo, ne fonderà una anche a Montevideo. Ci sono molti italiani in Uruguay. Mi sembra un'ottima idea. Stampiamo anche un giornale. Certo non facciamo grandi cose. L'idea è sempre l'Italia, la rivoluzione. Facciamo molti progetti, anche troppi a dire il vero. Ma in pratica l'attività si riduce al giornale, ai volantini. E allo sventolare ogni tanto il tricolore sotto il naso delle navi piemontesi e austriache quando entrano in porto. Solo che io sono un uomo di mare, signor Conte. Fratello. Fratello. E vi assicuro che con la nostra barca, la barca di proprietà dell'associazione, oltre che sventolare il tricolore, potremo assalire le navi piemontesi, napoletane, quando sono in mare aperto. Siete impaziente? È più di un anno che ci penso. Col denaro ricavato dalle prede, potremmo aiutare la nostra causa. Vorrei fare qualcosa per l'Italia. Qualcosa di concreto. Subito. Per noi esoli, fratello. Dovunque si combatta per la libertà, lì c'è una patria. Non sono parole mie, ma di Mazzini. La causa dei fratelli di Rio Grande, per esempio, è diventata la mia. Potrebbe diventare anche la vostra. Ai ribelli di Rio Grande servono esattamente uomini come voi. Marinai decisi, coraggiosi. Ecco le nostre idee. Voglio mostrarvi una cosa. È una mappa un po' approssimativa di questa provincia dell'impero brasiliano. L'avete disegnata voi? Sì, per non perdere la memoria di quei luoghi. Non è finita, come vedete, ma c'è quanto basta. Date un'occhiata qui. Le truppe imperiali brasiliani hanno bloccato tutti gli sbocchi a mare. Le loro navi invece vanno e vengono tranquillamente. Ecco. Bisognerebbe che navigassero meno tranquillamente. E poi ci serve il loro carico. Abbiamo bisogno di denaro per difendere l'indipendenza. Dimenticate le navi austriache, piemontesi, napoletane. Credetemi. È più giusto aiutare i patrioti di Rio Grande. E c'è di più. La Repubblica può darvi quello che nessun altro potrebbe darvi in questo momento. Un documento legale. La patente di Corsaro. Corsaro. Non pirata. Farò in modo di farvi ricevere al più presto questo documento. Così potrete combattere sotto la bandiera della Repubblica Rivoluzionaria del Rio Grande. Certo, i rischi per voi sono gli stessi. Se sarete catturati, pagherete con la vita. Ma la patente di Corsaro vi dà il diritto di essere considerato un soldato. Non un bandito. Fratelli, da oggi l'Associazione ha il suo reparto armato. Che combatterà in difesa di un popolo oppresso. Voi che arrestate a Rio, invece, continuerete il lavoro di propaganda. E così pure quelli di voi che verranno con me a Montevideo. Vi ricordo il fine del nostro apostolato. Unire gli italiani del Brasile e delle province del Rio e della Plata. Unirli perché diano ogni aiuto possibile ad un altro paese oppresso, l'Italia, nell'ora della sua insurrezione. Libertà. Uguaglianza. Umanità. Da una lettera inviata da Garibaldi a Giovanni Battista Cuneo, Montevideo, Uruguay. Quante giornate ho trascorso al porto cercando gli elementi che servono. Comunque la partenza è già fissata per domani, fratello Cuneo. Malgrado le difficoltà che tu sai. Alza la nostra bandiera e ammaina quella brasiliana. Corsaro. Con sedici compagni e una barca io sfidavo un impero. Armammo da guerra il Mazzini, piccolo bastimento di una trentina di tonnellate. E ci lanciamo in mare. Eravamo finalmente liberi, io e l'amico Rossetti. La nostra bandiera. Tutte le bandiere sono simboliche, anche questa naturalmente. E io penso che sia giusto, signori, che conosciate il significato, anzi i significati perché ce n'è più d'uno, della bandiera per la quale combattete. I triangoli verde e giallo, eccoli qua, triangolo verde, triangolo giallo, sono le figure geometriche della perfezione. Il quadrilatero centrale rosso rappresenta il mondo, secondo la concezione degli antichi. Così, nel linguaggio della nostra bandiera, il mondo è rosso perché è il mondo della lotta, e dunque è macchiato di sangue. Ma nello stesso tempo è base del progresso materiale, rappresentato dal triangolo giallo, e base della perfezione morale rappresentata, ecco qua, dal triangolo verde. Spero di essere stato chiaro. Bella barca. È carica, vedi? Guarda la linea di galleggiamento. Quella sarebbe una nave da guerra corsara. E la nostra? La fondiamo, la abbandoniamo, vedremo. Distribuisci le munizioni. La bandiera. La bandiera. Era la prima volta che puntavo armi contro esseri umani. E benché forte nella mia convinzione, dovetti vincere una certa ripugnanza. Ma essi, a dire il vero, non opposero alcuna resistenza. Chi è il comandante? Sono io. Cosa trasportate? Caffè. Potete abbassare le mani. Diamo un'occhiata sotto coperta. A chi appartiene il carico? Il carico e la goletta sono del signor Brown, diria. Ma chi siete? Che volete? Molle vele! Imbarcatevi sull'altra nave. Anche voi, capitano. Questa è nostra preda di guerra. Voi due resterete con noi. Di chi sono schiavi? I vostri? Dell'armatore. Lavorano come marinai. Li dichiaro liberi in nome della Repubblica del Rio Grande del Sud. La nave catturata si chiamava Luisa. Decidemmo di chiamarla Farropiglia, dal nome di Farrapos, Straccioni, come eravamo chiamati noi, combattenti repubblicani, per disprezzo dai nostri nemici. E tu come ti chiami? Cesar. Quanti anni hai? Penso una ventina. Quando mi hanno venduto ero molto piccolo. E chi ti ha fatto battezzare non ti ha insegnato né a leggere né a scrivere? No. E' l'istruzione il primo passo verso la libertà. Ha sempre ragione Mazzini. Era un battello veloce. E così, navigando mezzogiorno, giungemmo in breve al porto di Maldonado, nello stato dell'Uruguay, all'entrata settentrionale del Rio della Plata. Verde, rosso, giallo. Ma non in diagonale. La vostra non esiste. Come non esiste? Sono due anni che quella bandiera sventola nel Rio Grande del Sud. E la Repubblica del Rio Grande è stata riconosciuta dall'Uruguay. Vi ripeto che le bandiere degli stati riconosciuti ufficialmente sono tutte qui. La vostra non c'è. In questo libro non esiste neanche la Repubblica del Rio Grande. Si sono dimenticate di farlo sapere all'autorità dei paesi vicini. Le carte di Bordeaux. Che carico avete? Caffè. Vorremmo vendolo qui a Maldonado. Come avete detto che si chiama la vostra nave? Farropiglia. Qua risulta il nome Luisa. Ed è brasiliana. Era brasiliana. Ora appartiene alla Repubblica del Rio Grande. L'abbiamo catturata. Con che diritto? Freda di guerra. Cos'è? La patente di Corsaro, rilasciata dal governo del Rio Grande, ci autorizza ad assalire in qualsiasi mare tutte le navi brasiliane, con diritto di preda. Ma capitano, questo è un documento ufficiale. Statemi a sentire. Secondo la legge internazionale dovrei arrestarvi come pirati. Pirati? Sì, signore. Però dato che la questione è una questione politica, io me ne lavo le mani. E questi uruguayani sarebbero amici del Rio Grande? Non capisco. Cerchiamo di vendere il caffè, la svelta e riprendiamo il mare. Sì, ma dopo aver consegnato i denaro al rappresentante del Rio Grande, il signor Mangheira. Era sottinteso. Li prendi per un pirata anche tu? Volevo soltanto ricordarti le istruzioni. Le so a memoria. Puntare su Maldonado, vendere le prede, consegnare i denaro al signor Mangheira e riprendere subito il largo. Allora, hai trovato? È il commerciante più ricco del teatro, Ramirez. Al tavolino. I sacchi li sbarcate a vostro speso? Sì, signore. Ti posso dare 2.500 race? 3.000. E da dove viene la merce? È tutto in regola, non preoccupatevi. Va bene. Però 2.500. D'accordo. Stanotte il caffè sarà nel vostro magazzino. Dove si trova? L'indirizzo lo sanno tutti. Il signor Mangheira è scappato. Come è scappato? E anche in fretta perché ha lasciato qui tutte le sue cose. E non si sa dove è andato? No, niente. Va bene, torno alla nave. Una vera e propria fuga. Già. State parlando di Mangheira, il rappresentante del Rio Grande? Pare che l'Uruguay si sia alleato col Brasile contro il Rio Grande. L'ho saputo oggi dal console brasiliano. Bene, aiutarti. Questo spiega tutto. Luigi, devi avertire Cunio di quello che ci sta succedendo. Devi raggiungere Montevideo. In due giorni con un buon cavallo ci arrivi. Noi scarichiamo il caffè e stanotte leviamo l'ancora. Senza acqua e senza vivere. Stai attento. Questa è Montevideo. Qui c'è Maldonado. Questa è la punta Gesussi Maria. Di Acunio che noi aspetteremo qua. E che ci servono istruzioni precise. Tu fai scaricare subito. Abbiamo finito, signor Ramirez. Capisco che biscotto è il terreno sotto i piedi, ma... ...si poteva finire anche domani mattina, no? Un pensiero di meno per voi e per me. Ecco, questo è un anticipo. Signor Ramirez, non abbiamo parlato di anticipo. Quando avrò fiazzato la merce avrete il resto. Come? Sapete bene che non potrò tornare a Maldonado. Incaricate qualcuno di fiducia. Signor Ramirez, noi non facciamo lo stesso mestiere. Io non so dove sarò domani. E allora niente da fare. Negli affari c'è chi perde e c'è chi guadagna. Vi andrà meglio la prossima volta. Avete tutto il caffè. Voglio tutto il denaro. Accontentatevi di questo e andatemene. Ho detto il denaro. Voleva costui entrare in spiegazioni. Ma la terza volta che io gli ebbi ripetuto... ...e con una certa voce il mio denaro... ...subito mi contò i 2500 Reis che doveva darmi. Rimisi la pistola alla cintura... ...e con il denaro sotto il braccio tornai alla goletta... ...senza aver avuto la minima inquietudine. Alle 11 di sera salpammo l'ancora... ...per rimontare il corso del fiume Plata. Viene dritta verso di noi. Non risponde ai segnali. Rossetti e Cuglio, devono essere loro. Dovrebbe avere una bandiera rossa sul trinchetto... ...e quelli non ce l'hanno. Restiamo fermi. Meglio muoversi. Salpa l'ancora e issiamo le vele. Quella barca continuava ad avanzare verso di noi. Quando fu a portata di tiro... ...venne insata all'improvviso la bandiera uruguayana... ...e l'equipaggio si disposa a far fuoco... ...senza nessun previso. Io gridai subito... ...alle armi! Violentino, dritta! Colpito il comandante e il nemico, come d'uso in quei mari... ...si disponeva a fuggire. Violentino! Violentino! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. L'avete seppellito. Non parlare, non affaticarti. Luigi, se muoio, non seppellitemi in mare. No, tu non morirai. Noi altri abbiamo la pelle dura. Statene calmo. Dimmi soltanto dove dobbiamo dirigerci adesso. Dal libro scritto da Garibaldi, le sue memorie, non si desume chiaramente come egli, ferito e abbandonato da quasi tutti i suoi compagni, si è giunto attraverso l'estuario del rio della Plata, il rio Paranà e il rio Gualeguai, fino alla cittadina di Gualeguai in Argentina. Pare che il fortunato incontro con un signore del luogo, forse affiliato anche egli alla setta segreta a cui apparteneva Garibaldi, abbia fatto il miracolo. Va bene, andremo in Argentina allora. A Gualeguai aveva la sua residenza il signor Andreas, il gentiluomo che aveva incontrato in navigazione la farropiglia con a bordo Garibaldi ferito. Il signor Andreas era uno dei primi cittadini di Gualeguai, benché di nazionalità straniera. Per questa ragione, e a causa delle sue idee liberali, egli era poco gradito all'autorità di polizia della città. Ma egli sapeva essere in quei giorni, in visita a Gualeguai, il governatore medesimo della provincia di Entre Rios, Don Pasquale Ciague, suo amico. Il signor Andreas ebbe dunque modo di raccomandarmi al governatore, dicendo che ero un combattente della Repubblica del Rio Grande e che mi consegnavo a lui, al governatore, come prigioniero di guerra. Sapute le mie condizioni, il governatore, dovendo partire, mi affidò alle cure del suo chirurgo, Don Ramon dell'Arca, giovane argentino, che mi fece l'estrazione della pallottola che era rimasta nel collo e mi curò perfettamente. Tenetelo. Io vissi nella casa del signor Andreas, nei sei mesi di soggiorno a Gualeguai, e dove metti moltissimi riguardi e gentilezze a lui, alla sua simpatica famiglia e alla signora Aleman, vicina di casa, che fu prodiga di ogni attenzione. Una volta ristabilito, fu sotto la guida della signora Aleman, che montai per la prima volta su un cavallo, e per me, che ero marinaio, imparare non fu troppo facile. Le redini, le redini. Facevamo delle passeggiate, ma per ordine delle autorità erano limitate. Comandante Millian, io ho dato la mia parola d'onore. Sedetevi. E allora? Ho promesso al governatore Ciague che non sarei fuggito, e vi garantisco che non fuggirò. Se è per questo c'è anche la garanzia di Don Jacinto Andreas. E allora? Devo proprio presentarmi tutti i giorni al comando di gendarmeria. Io sono un soldato, non un bandito. Io ho la massima stima di Don Jacinto e tengo conto della benevolenza che vi ha dimostrato Sua Eccellenza Eciague, ma sopra il governatore c'è Buenos Aires, il governo federale. Il capo del governo, Sua Eccellenza il generale Emanuele de Rosas, ha dato istruzioni precise che ho imparato a memoria. Quella circolare. È venuto a conoscenza del sottoscritto che nella provincia di Entre Rios si è internata a una piccola nave brasiliana che i repubblicani di Rio Grande hanno catturato, adibendo l'adattività di guerra col Sara. Mi rivolgo a Sua Eccellenza il governatore di questa provincia perché si compiaccia dare gli ordini necessari affinché al più presto sia sequestrata la nave e messo al sicuro il suo equipaggio. La nave è stata sequestrata e anch'io sono stato messo al sicuro qui a Gualeguai. Ma non in carcere. Alloggiate nella casa di Don Casinto, la più bella del paese. Potete circolare liberamente per Gualeguai e spingervi fuori per dieci miglia. È un trattamento di favore. Come contropartita vi chiediamo solo di rassicurarci una volta al giorno che siete ancora qui e come state. A proposito, state meglio. Buongiorno, sergente. Ah, Don Casinto. Allora, com'è andata con Miglian? Gli ho detto che non volevo farmi vedere ogni giorno in caserma. Che cosa ha risposto? Cosa può rispondere un uomo che al posto del cervello ha una circolare? Ha detto che devo andare ogni giorno. Vi sono venuto incontro perché volevo parlarvi liberamente e a casa non è possibile. Si tratta di questo. Oggi sono venuti due commercianti stranieri che desiderano incontrarsi con voi questa sera. Non li conosco a fondo, ma sono gente da bene. Non vi sarà difficile trovare la casa. È la prima dopo l'estanza di Don Felipe. È bianca, con due archi. Mi raccomando, prudenza. Che nessuno vi veda entrare. Io sono francese, mi chiamo Vodrei. Il mio amico, il signor Humbert, viene dalla Germania. Dalla Sassonia, per l'esattezza. Commercianti, mi ha detto il signor Andreas. Non per vocazione. Solo da quando siamo qui, nella provincia di Entrerios. Tra poco saranno cinque anni. E prima? Non volete accomodarvi? Prima il signor Humbert insegnava lettere e filosofia nel ginasio di Hambach. Io non avevo una professione precisa. Diciamo che facevo il giornalista, ecco. E ho fatto le barricate a Parigi, quando re Carlo X ha abolito la libertà di stampa. Nel 30 sono sceso ancora in strada per combattere i traditori della rivoluzione. Primo fra tutti Luigi Filippo d'Orléans. Ho anche cospirato per ucciderlo. Grazie. Anche voi naturalmente siete un fuoriuscito politico. Non è vero, signor Humbert? Lo vedete? È in questo modo che si tratta da noi in Germania un poeta come Heine. Prendano tutti i libri suoi che trovano, e non solo i suoi, e li bruciano sulle pubbliche piazze. Questo l'ho salvato dalle fiamme, ma mi è costato quattro mesi di prigione. Ai miei scolari insegnavo che Heine è un grande poeta e un patriota, perché vuole gli stati tedeschi uniti in una sola nazione. E questo mi è costato la sospensione dall'insegnamento. E dallo stipendio. Mi sono iscritto alla giovane Germania. E così ho cominciato anch'io a cospirare. Dovrei credervi sulla parola. No, no, ma... Dovete credere al fratello Cuneo. Questa lettera è destinata a noi, ma vi riguarda. È cifrata? Anche voi e Cuneo vi scrivete in cifra, no? Non sempre. Dipende dalle notizie. Vedrete che quelle notizie sono importanti. Da quando siete in corrispondenza con il signor Cuneo? L'ho conosciuto l'ultima volta che sono stato a Montevideo, quattro mesi fa. Il signor Andreas dice di conoscervi poco. Il signor Andreas è di sentimenti liberali, ma non è affiliato a nessuna organizzazione. Perché avremmo dovuto aprirci con lui? Abbiamo solo detto ad essere liberali e che volevamo parlarvi. Dovreste apprezzare la nostra cautela. Fratello, quella lettera è scritta in codice, ma è un codice che voi conoscete. Non ha memoria. Tenetevi la lettera allora, ma dopo averla decifrata, distruggetela. Va bene, fratelli. Chi avrebbe mai pensato di incontrare in quella terra sperduta due persone a te simili nell'idea e nell'azione? È pronta a rischiare per aiutarti. E di riavere notizie di Cuneo, di Rossetti, della nostra associazione di Montevideo. E adesso ditemi quello che scrive Cuneo, la parte che mi riguarda. Dice che devi tentare la fuga. Ma io ho dato la mia parola d'onore al governatore Chague. Devi raggiungere il presidente Gonsalves nel Rio Grande del Sud. Ma Bento Gonsalves è prigioniero a Rio de Janeiro? Non più. Il mese scorso ha fatto quello che adesso Cuneo chiede a te. È fuggito. È fuggito da quella fortezza. E ha ripreso la lotta con più accanimento di prima. C'è bisogno di te, non puoi restare qui. Da questo momento, fratello, ogni ora che passi è uguale guai e un'ora perduta. Ma come posso mancare la parola d'onore? Il tuo onore consiste soltanto nel restare fedeli all'associazione. Un rivoluzionario non può permettersi il lusso di altri scrupoli. Mi dirigevo verso il fiume Paranà, dove contavo di incontrare una nave che mi trasportasse di nascosto fino all'estuario del Plata. Ma la notte mi sorprese ancora lontano dal fiume. Riuscì comunque con qualche denaro a cambiare il cavallo stanco con uno fresco. Mi fu detto però che fino all'alba mi era impossibile proseguire. E così mi decisi ad aspettare. Riuscì. 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 Mi legarono le mani dietro la vita. Mi posero a cavallo. Quindi mi legarono i piedi sotto la pancia del cavallo. E così, legato piedi e mani, tornai a Gualeguai, dove mi aspettavo un trattamento ben peggiore. Nessuno mi accusa, credo, di essere troppo amante della vita. Ebbene, confesso francamente che mi sento rabbrividire ogni volta che rammento quelle circostanze. Traversai 50 miglia di paludi senza nemmeno potermi difendere dalle tanzare. Terribili in quella stagione. Non conviene girare per le nostre campagne. Si fanno dei brutti incontri. Non avete il diritto di trattarmi in questo modo. Protesterò! Buono! Buono! E stai calmo! Voi siete un traditore. Non avete motivo di protestare. Voglio i nomi dei vostri complici. Io non ho complici. E il cavallo? E il denaro? Fuori i nomi dei complici, signor Garibaldi. Vi conviene parlare, ve lo assicuro. Il signor Andreas? Non ho complici, ve l'ho detto. Vi conviene parlare. Chi sono? Andreas? La signora Aleman? E chi altri? Non ho nessun complice. Peggio per voi, allora. Arrestate immediatamente il signor Andreas. Per questo sapete cosa dovete fare. Volete parlare? Allora? Tenetelo appeso fino a quando avrà confessato. E così restai per due ore. Tali patimenti non si possono descrivere. Ma ricordate il nome di quel mostro, amici, così che lo possiate consacrare all'esecrazione dell'universo tutto. Fui messo in ceppi come un assassino. E senza la signora Aleman, senza l'anima generosa di quella donna che vinse il timore che aveva invaso tutti, certamente io sarei morto. Suarez, aprite la porta. Quella volta la fortuna fu il ritorno a Gualeguai del governatore Echagüe. Levate gli ceppi. Come avevo promesso al signor Andreas, a Buenos Aires ho parlato del vostro caso col presidente Rosas. Alla fine il governo ha stabilito che decida io. Buenos Aires sta qui e questa è la provincia di Entre Rios. Come si può decidere su problemi che stanno a tante miglia di distanza? È stato questo il principio che ho sostenuto. E con successo. Ho riflettuto a lungo prima di decidere. Il rio grande, eccolo qua, è vicino alla mia provincia, alle mie terre. e io desidero essere in pace con i miei vicini. Voi siete un soldato del rio grande, perciò io vi restituisco al rio grande e al suo presidente, Bento Consalves. Siete libero, signor Garibaldi. Questo è il denaro che vi era stato sequestrato. E se volete potrete salutare don Jacinto Andreas a casa sua. Ho rimesso in libertà anche lui. Ve ne sono molto grato, ancora più che per la mia liberazione. Mi avete tolto un grave rimorso, eccellenza. Don Jacinto Andreas è completamente straneo alla vostra fuga e come straniero ha diritto alla maggiore ospitalità. A proposito di stranieri, vorrei chiedervi un favore. Che potete dirmi di quel francese e di quel tedesco che abitano nella casa con gli archi? Il signor Vaudreil e il signor Umbert. Ne sapete qualcosa? No, non li conosco. Il tuo onore consiste soltanto nel restare fedele alla giovane Italia. Un rivoluzionario non può permettersi il lusso di altri scrupoli. Il suo è un po' di chiudere alla giovane Italia. Grazie a tutti. 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 Fermo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. potrete a tutti. per ciò, per ciò, per ciò... proverete... Proverete... Grazie a tutti. un contratto come un contratto... lui riceverete... lui riceverete... suu... su suonare... 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 Puedo creer Al diablo con el un grillo Y a tu mujer la cadena Soy libre, soy due Puedo creer Quisiera cruzare il vino Sin che me sienta l'area Soy libre, soy due Puedo creer Compagni, questo è il tenente capitano Garibaldi Da oggi è lui che comanda qui, non io Questi sono fratelli della costa Francisco Toyer Nau Niento Ignacio Bilbao Jacques è francese Loro sono venuti con me dalla Virginia Lui è Bretone, Giovanni E lui olandese, Zeffirino di Uca Il medico più vicino dove sta? Più o meno una decina di miglia era qui Nella fattoria di Donna Anna La sorella del presidente Consalves Te lo possiamo portare col carro allora Se tu, Sigismondo, è per nascita natura umana Mi basterà darti un segno di me per essere salvo La tua voce ha avuto il potere di intenerirmi Il tuo aspetto mi... Mi lascia interdetto Mi lascia interdetto E provo per te un rispetto che... Non sai mai la parte Scusate, so che qui c'è un medico C'è un ferito grave Voi chi siete? Garibaldi Il nuovo capitano delle navi della laguna Dovete rivolgervi alla padrona di questa casa La donna Anna Dov'è? Mia zia sta là Grazie Scusate, signora Voi siete Donna Anna La sorella del presidente Consalves Sì Sono Garibaldi Uno dei miei uomini ferito Vi prego, chiamate il vostro medico Antonio, volete cercarlo? Che venga subito Dov'è il ferito? Qui fuori Fatelo trasportare in casa Grazie Chi è? È Garibaldi Il nuovo comandante delle navi della laguna In quel tempo Venne incaricato dell'armamento dei due lancioni Che si trovavano sul fiume Kamakua Per questo avevo scritto a Giovanni Battista Cuneo a Montevideo Che mi mandasse alcuni italiani Marinai esperti Su cui potessi contare Tra essi naturalmente era Luigi Carniglia E con lui un altro amico Che non mi aspettavo più di rivedere in vita Trattavasi oltre che di navigatori provetti Di uomini che conoscevo bene Per le loro convinzioni e la loro fede Fratelli della giovane Italia Che vennero infatti senza farsi pregare Anteponendo a tutto la causa Di quel popolo infelice e valoroso Il mio buon Luigi Che mi aveva salvato la vita nel rio della Plata Quando ferito mi vegliò e mi curò E pilotò la nave in salvo a Gualeguai Luigi mi parlò anche di un altro che era con lui Era appena sbarcato a Montevideo Veniva da Genova Mi ha chiesto tue notizie Gli ho detto che stavo per raggiungerti E ha voluto venire Dov'è? Edoardo Mutru Lo avevo lasciato a Genova Poi avevo saputo che era stato arrestato e processato E poi più nulla E ora mi aveva raggiunto in America Ho fatto quattro mesi di carcere Poi mi hanno assolto per mancanza di prove Ma i servizi marina, quello, lo hanno preteso tutto Fino all'ultimo giorno Peggio della galera Peggio Perché ero un repubblicano E sospetto ribelle Gli ufficiali ce l'avevano con me Mi prendevano sempre in giro Mazzini mi dicevano Corri qua Mazzini, fai questo, fai quest'altro Se sgarravo di tanto giù Giù in stiva In cella di rigore I lavori più schifosi erano sempre per me E quando c'era da scendere a terra Nove volte su dieci Mi punivano Mi mettevano di guardia Povero Mutru Ancora non sapevo che doveva morire in America di lì a un anno Nel naufragio della nave che io comandavo Inutilmente l'avevo cercato tra le onde per salvarlo Il mare lo aveva restituito un miglio lontano Ormai senza vita Nel frattempo noi prendemmo un battello con ricco carico Era questa la nostra prima preda che meritasse di così chiamarsi E rallegrò moltissimo la nostra piccola marina Ci era riuscito con molta pazienza In seguito ad un avvistamento Di seguire lungo il fiume Kamakuan Senza essere visti E fino alla costa occidentale della laguna Una goletta Chiamata Mineira Battente bandiera brasiliana Aveva questa nave Attraccato alla riva Con l'evidente scopo di rifornirsi Giovanni Griggs Con alcuni dei nostri Sopra un lancione Aveva il compito di simulare un attacco Per distrarre l'attenzione del nemico All'arma e siamo attaccati All'arma e siamo attaccati La preda di guerra della marina repubblicana In seguito all'assalto alla goletta Mineira Da dividere in parti uguali Tra il tesoro nazionale e gli equipaggi Risulta così costituita 50 barili di farina di grano Una cassetta con documenti Una cassetta con oggetti perfumatori 10 barili di sal nitro 3 cassoni di conserva 8 colli di tela Due piccole damigiane di acquavite di Francia Una eccola qui E l'altra dove? E' qui Va bene Una damigiana di acquavite di Francia E articoli di abbigliamento femminile Avevo sperato di trovare In quella prima fortunata impresa Anche del materiale che mi permettesse Di fabbricare delle divise per i miei uomini Alcuni dei quali non avevano di che coprirsi Invece potei solo fare omaggi In casa di Donna Anna Sorella del presidente Gonsalves Dove certo non mancava il necessario Nel superfluo Nonostante la guerra E dove mi recavo di tanto in tanto Per delle visite di obbligo Ma anche piacevoli Almeno i primi tempi Vi ringrazio della vostra visita Purtroppo non abbiamo molto da offrirvi Si lavora Si conversa tra di noi Conduciamo una vita molto semplice Tradizionale Tra poco verrà la servitù E diremo tutti insieme il rosario Come si faceva in casa mia Dove? Molto lontano da qua A Nizza in Italia Dove ho passato la mia prima giovinezza Il lato piacevole di tali visite Non era certo la conversazione da salotto La tertuglia Come si chiama in spagnolo Il conversare mondano In portoghese non ricordo il nome La tertuglia non era il mio forte E gli argomenti di essa non mi interessavano Per fortuna Donna Anna Aveva delle nipoti E tra esse Emanuela A cui mi accorgevo di non essere indifferente Come va la recita? L'altra volta stavate recitando vestita da uomo E io no Anch'io recito Faccio il re Guardate Verrete a vederci? La vita è sogno di Calderon della Barca La recita è per domani Domani? Forse sarà meglio aspettare Che sappiate bene la parte Io la so Tu sola tra tutte le umane creature Sei riuscita ad arrestare l'impeto della mia collera Che faccio? Mi alzo Sì, sì Tu sai accendere i miei occhi Di un senso di stupore E colpire di meraviglia il mio orecchio Ogni qual volta ti guardo Sei causa in me di nuova stupefazione E quanto più ti guardo Più desidero vederti Imperiano Col passare del tempo Riuscimmo a scoprire meglio Quali fossero Tra i proprietari del luogo Quelli che ostentavano fedeltà all'imperatore E si approfittava Appena possibile Dei loro beni Questo vestiamo è requisito Prendi solo i capi più giovani La proprietà in ogni caso non deve essere toccata Sarebbe il disordine e l'anarchia I proprietari di parte imperiale sono molti Ma se si dovessero colpire tutti La maggior parte di loro Eccetuate le idee politiche Sono gente come noi Come Bento Gonsalves Sono traditori Perché anche loro vogliono il bene di questo paese E per molti Il bene del paese è appunto Restare uniti all'impero È una questione di punti di vista Certamente Però non mi aspettavo Che proprio qui in casa di Gonsalves Gli imperiali trovassero comprensione Vedete signor Garibaldi Mio fratello Bento è un idealista Ma intanto il nostro paese va in rovina I danni di questa guerra sono enormi Gli uomini lavorano sempre di meno Combattono Combattono perfino i negri Le nostre fattorie sono abbandonate Solo quelli di noi rimasti fedeli all'imperatore Hanno ancora qualcosa Gli altri si sono smenati per la guerra E poi mi incroci Miglioravamo la produzione Ora cosa volete fare? Le bestie vagano dove vogliono Nessuno le badia Se sono inserbatifite Pensare che si macellavano anche 60 capi al giorno E se Dio Guardi Gonsalves non riesce a vincere? Sarà la rovina completa per tutti I brasiliani non ci perdoneranno Di essere stati dalla parte dei ribelli Ci toglieranno le terre E le daranno in premio a quei proprietari Che sono rimasti fedeli all'impero Come Dona Severo Ma anche se riusciamo a vincere La situazione sarà ugualmente spaventosa Le vostre proprietà sono immense Date loro la terra Ed essi la coltiveranno I negri come i bianchi La proprietà deve restare in mano A persone responsabili Se si vuole che la Repubblica Abbia uno sviluppo ordinato Ma signori così si tradisce la rivoluzione Si ritorna alla schiavitù Libertà, uguaglianza, umanità Questa è la nostra Repubblica Quella per cui combattiamo Scusate L'azione contro il feudo di Dona Severo Fu decisa all'unanimità Era costui reo di mantenere In disprezzo dei principi della Repubblica Un vero esercito di schiavi negri e indiani Sottoposti alla sorveglianza Ad un ignobile aguzzino Chi siete? Cosa volete? Ci hanno detto che Dona Severo Non rifiuta mai il suo aiuto Ai leali sudditi dell'impero E' questa la sua fattoria? Si, è questa Allora chiedigli se ci vende qualche sacco di grano Allora chiedigli se ci vende qualche sacco di grano I banditi entrano così in casa ad altri Il bandito siete voi Dona Severo Qui siamo nella Repubblica del Rio Grande Il governo rivoluzionario abolito la schiavitù Siete quel mercenario che sta con Vento Consalves Gli schiavi verranno con noi E svuoteremo anche i magazzini Per gente come voi Repubblica significa saccheggio Che non si muovano E leggili il manifesto della Repubblica del Rio Grande Questi sono i motivi reali Che ci hanno spinto alla lotta contro l'impero E alla proclamazione della Repubblica Il governo di sua maestà L'intervore del Brasile Consente che la bandiera brasiliana Sia impangata dalla politica falsa E legna Ma pesare il popolo Un costo gravosissimo E dissita il denaro pubblico Permette traffici vergognosi e disonoranti Quali il commercio degli schiavi In prigione i cittadini Senza che conoscano i motivi dell'arresto E senza alcun processo Stato ordinato o agito di sua iniziativa Pare che sia stata un'iniziativa di Garibaldi Bisognava avvertirlo Che con Donna Sevedo Siamo sempre stati in buoni rapporti Donna Sevedo è un vecchio amico Non gli si può mancare di rispecchio in questo modo Perché questo signor Garibaldi Si immischia in faccende che non lo riguardano In quel tempo Un sentimento di pericolo Si impiantò in me E anche oggi penso che un qualche tradimento Alle nostre spalle Un tradimento ordito da chi mai Avremmo potuto sospettare Favorì la sorpresa del nemico E anche oggi penso che un'iniziativa di garibaldi I miei compagni All'infuori del giovane Procopio Erano dispersi all'intorno A procurare legname I cavalli sopravento Non percepivano alcunché La loro calma mi ingannò All'infuori del giovane All'infuori del giovane Grazie a tutti. Inghannati dal fuoco intenso, non supponendo che io fossi solo, i nemici avevano preso posizione. Francisco de Abreu, detto il Moringhe, era un gaucho mercenario, nemico dei repubblicani. Giù! Contro di me aveva preparato da tempo quel piano, basato nella sorpresa secondo il suo stile. Ma la sorpresa non era riuscita. La nebbia calò all'improvvisa e favorì il rientro di alcuni dei miei. Vieni qua! Giù! Grazie a tutti. Risparmiate le munizioni. Mutru, Griggs, non li sentono gli spari. Hanno paura. Le munizioni erano quasi finite e molti dei miei uomini mancavano ancora all'appello. Il nemico non avrebbe tardato ad accorgersi della nostra situazione disperata. Cercavo di infondere coraggio, ma senza speranza. Attaccare! Ecco lì, ecco lì! No, presto! Colpito il capo, come è l'uso in quelle bande di mercenari, i nostri assalitori si disposero a fuggire. E fu gran fortuna, perché la palla che spezzò un braccio al Moringhe era una delle ultime che i nostri fucili potevano sparare. Si ritirano! Si ritirano! La fortuna ancora una volta mi aveva aiutato. È difficile leggere nel futuro. Lo dico sul serio. Le carte suggeriscono, ma toccano interpretare. Allora cosa dico? La mia strada è diritta come una lancia. E io la percorrerò fino alla fine, senza esitazione. La vostra è come il serpente corallo. Tortuosa, dura. Voglio sapere se si incontrano. Chissà. Ci sono molti segni non chiari. Difficile. L'avevo detto. Manuela. Il signor Garibaldi desidera parlarmi. Se volete avere la bontà di seguirmi. Io non avevo sollecitato alcun colloquio, ma mi aspettavo qualche spiacevole conseguenza dall'azione compiuta contro il patrizio nemico dei repubblicani. Conoscevo l'affinità da cui erano congiunti gli appartenenti a quelle grandi famiglie. So che non avete apprezzato la nostra azione contro il feudo di Donna Sevedo. Non riesco a vedere un pericoloso avversario in un vecchio amico come Donna Sevedo. Ma non si tratta di questo. Donna Anna, voi sapete il rispetto che ho per voi. Per vostro fratello, il presidente Gonsalves. Vi ringrazio. Sarà tutto più semplice. Volevo parlarvi di Manuela. È ancora una bambina, impulsiva, romantica. Non vorrei che fosse fraintesa e ho pensato che era meglio che ci fosse una chiarificazione tra di noi prima che parta. Manuela parte. Domani mattina per San Gabriel. Ma lei ancora non sa niente. Ho deciso che raggiunga il suo cugino, Joaquin Gonsalves, un altro mio nipote, il figlio del presidente. È opportuno che si frequentino se il loro destino è di sposarsi. Naturalmente vi raccomando il silenzio. Il personaggio di Manuela è tratteggiato nel libro delle memorie di Garibaldi con grande delicatezza. Molto più spazio, naturalmente, è dedicato al personaggio di Anita. No, Anita non era il mio nome. Mi chiamavo Anna Ribeiro da Silva. Ma tutti dicevano Anigna, la piccola Anna. Fu lui, Giuseppe Garibaldi, capitano comandante delle navi repubblicane, a cambiare il mio nome. Disse Anita. E io sono restata Anita. Nell'inverno di quell'anno, il 1839, ero rimasta sola a Laguna. Mio padre e i fratelli li avevo perduti quando ero bambina. Mia madre era lontana a Rio de Janeiro e mio marito, Manuel Duarte de Agujar, il calzolaio, era fuggito con l'esercito imperiale. Aveva paura della rivoluzione, Duarte, proprio lui che non aveva niente da perdere. Neppure me, perché mi aveva già persa. Allora, io non sapevo che la vita di Anigna stava per finire e per cominciare quella di Anita. Poi un giorno mi chiamò Viaiglina. Viaiglina vuol dire vecchietta. La chiamavano così perché nessuna laguna ricordava il suo nome e lei per il troppo vivere sola diceva che il nome non serve. Alla gente non piaceva incontrarla perché parlava di fatti e di cose che nessuno conosceva. Confondeva i ricordi con i sogni, ma io non avevo paura. E a me Viaiglina raccontò un sogno. In quel sogno, io, Anigna, incontravo uno straniero biondo di capelli e di barba e fuggivo con lui. Fuggivo e morivo vicino a lui in una terra lontana. Viaiglina parlava, ma io non avevo paura nemmeno di quella fuga e di quella morte lontana. Viaiglina diceva che quello era il prezzo da pagare per una vita diversa. a a a a a a La provincia brasiliana La provincia brasiliana di Santa Catarina, ad imitazione della Repubblica del Rio Grande, si sollevò contro il governo imperiale di Rio de Janeiro, scrive Garibaldi nelle sue memorie. La popolazione voleva l'indipendenza, fu cacciata la guarnigione imperiale e si decise l'annessione alla confinante Repubblica del Rio Grande. Nasceva la Repubblica di Santa Catarina, con capitale e laguna. Nel vicino Rio Grande, all'udire dell'insurrezione, il generale Bento Gonsalves dispose che per mare e per terra affluissero rinforzi d'uomini e d'armi per la città insorta. Il giornalista mazziniano Luigi Rossetti, tra i promotori della spedizione, era stato tra i primi ad arrivare con le truppe del generale Canabarro, sperando di improntare agli ideali politici della giovane Italia la costruzione del nuovo Stato repubblicano. Dopo qualche settimana con i suoi uomini, a laguna, giunse anche Giuseppe Garibaldi. Non sapevo neppure quale fosse Giuseppe Garibaldi, tra tutti quegli stranieri portati dalla rivoluzione. Io lo cercavo, ma lui non poteva accorgersi di me. Era così lontano e irraggiungibile e aveva un aspetto così serio che io non riuscivo a credere che ci saremmo incontrate. Ma oggi, miei cari concittadini, per la prima volta non vi parlo come il vostro sacerdote. Vi parlo come il primo cittadino della Repubblica, di questa Repubblica che avete creato col vostro coraggio e con l'aiuto generoso dei fratelli del Rio Grande. La nostra gratitudine va anche a quei valorosi che hanno dato la vita per liberarci da la propensione. Don Cordero è molto stimato dai suoi concittadini, mi sembrava l'uomo più adatto. Per questo brigato mi sono battuto e alla fine lo spuntano. Il loro sacrificio deve essere... Ha accettato la presidenza. ...come un impegno solenne a percorrere fino in fondo, con onestà e fermezza, la strada che abbiamo intrapresa. Tocca a noi ora, con l'aiuto di Dio, dare al nostro popolo la giustizia e la prosperità che si aspetta dalla nuova Repubblica. Qui i nostri nemici, coloro che partecipano per gli imperiali, vanno già dicendo che l'esercito della Repubblica del Rio Grande non è a Santa Caterina come liberatore, ma bensì come conquistatore. Tanti soldati da alloggiare, tante bocche da sfamare creano senza dubbio dei problemi. Ma noi abbiamo il dovere di aiutare chi ci ha aiutato e ci aiuta ancora impedendo il ritorno degli imperiali. Io sono certo che ognuno di voi si rende conto che questo è un momento difficile e delicato. Ma la pace, che non tarderà a venire, sarà il premio alle fatiche e ai sacrifici che stiamo sopportando. invoco sopra tutti noi l'aiuto e la benedizione del Signore. Ordine di Canabarro, consegnare le armi. Ti ricordi quello che diceva di Almeida Pirattini? Questa non deve essere una guerra di secessione. Grandi feudatari del Rio Grande che si ribellano all'imperatore del Brasile. Questa deve essere la rivoluzione di tutto un popolo per la Repubblica. Io scrivevo le stesse cose sul giornale. Poi ho scritto il popolo deve essere onnipotente. È successo il finimondo. Cosa è successo? Di Almeida non ha potuto difendermi. O non ha voluto. Comunque mi ha licenziato. Ma c'è una cosa che mi dispiace ancora di più. Il gruppo che stavo organizzando non credo che sopravviverà. Quale gruppo? Una ventina di persone giovani delle migliori famiglie di Pirattini e commercianti e anche qualche ufficiale dell'esercito. Avevamo già una sede. Avevo preparato lo statuto sul modello della giovane Italia, si capiscono. Sarebbe stato il primo nucleo mazziniano qui nel Rio Grande. Pensa. La giovane Italia, la giovane Germania, la giovane Polonia e ora anche il giovane Rio Grande. Mi è andata male, invece. E qui va anche peggio. Certo che qui si parla di tutto meno che di rivoluzione. Rifai il letto, per favore. Hai informato, Cuneo? Di tutto. È lui che mi ha consigliato di venire Santa Caterina. Si sa come vanno queste cose, dice Cuneo. Nell'entusiasmo della vittoria ci sarà molta confusione di idee. Bisogna far prevalere le nostre. Aspetta. Ti leggo quello che dici esattamente. È bene che qualcuno dei nostri corra sul posto e si metta subito al lavoro, perché, ve lo dico con le parole di Mazzini, il colore e la direzione del movimento rivoluzionario saranno sempre in mano a chi prenderà l'iniziativa. Io ho fatto tutto quello che ho potuto. Ho cercato di opporre un potere civile a quello militare, ma Canabarro è un osso duro. Lui fa la sua guerra, non la nostra. E così il signor segretario Rossetti dice che il mio ordine di consegnare le armi è un errore politico. Grave anche. Potrei sapere il perché. Non si miglia così chi ha combattuto per liberare la propria patria. Penso anch'io che non fosse un ordine necessario. Così si creano soltanto rancori e inimicizia dove prima c'era simpatia. Vedo, signori, che le ragioni militari non mi interessano. Io non vi capisco. Scusatemi la sincerità. Gli imperiali hanno subito una sconfitta qui a Santa Caterina, ma prima o poi vorranno prendersi la rivincita e attaccheranno in forza come loro abitudini. Attaccheranno dal mare e noi abbiamo il dovere di rinforzare la nostra piccola flotta. Come la rinforzeremo? Catturando navi al nemico, se il nemico ci lascerà fare. Vero, capitano? Certo. E requisendo le navi e le barche agli amici. Ma gli imperiali attaccheranno certamente anche da terra. E noi abbiamo la necessità assoluta di rinforzare la nostra fanteria. Servono più fucili, più pistole, più munizioni. Ecco l'ordine di consegna delle armi. E se serviranno altri uomini faremo la coscrizione obbligatoria. Come potete notare, per me la politica passa assolutamente in seconda. Perdonate, generale. Ma perché volete difendere Santa Caterina soltanto con qualche reparto di fanteria e con quattro barche? Qui c'è una popolazione intera, centinaia di patrioti che hanno già cacciato una volta gli imperiali e che li caccierebbero di nuovo. Insegnerebbero a tutti come si combatte se soltanto avessero le armi. Ma non le hanno più grazie alle vostre ragioni militari. e dopo questo sbaglio un altro, il ricatto. Se volete le armi arruolatevi nel nostro esercito. Generale Canabarro, se gli imperiali attaccheranno dovremmo contare soltanto sulle nostre forze perché i cittadini non muoveranno neanche un dito per aiutarci. Signor Garibaldi, voi non siete qui per giudicarmi e per dare consigli. Perché no, signor generale? Cominciate subito la requisizione delle barche! Giuseppe capiva perché noi di Laguna non accettavamo di essere trattati come dei nemici vinti. Avevamo combattuto e meritato la nostra libertà. Lo capiva e si sentiva uno di noi. Ma come soldato era costretto ad obbedire. così quando gli ordinarono di requisire le barche dei pescatori trova modo di obbedire ma anche di fare di testa sua. Cominciò a dire che quella barca era troppo piccola, quell'altra troppo malandata, quell'altra ancora non reggeva il mare e le barche restarono ai pescatori. è un ordine del generale Calabarro. Dovete consegnare tutte le armi. Qualcuno che si ribella alle perquisizioni. Avanti. Quel giorno mi vide per la prima volta senza sapere il nome né altro di me e io non mi accorsi di niente. Garibaldi vide una donna gridare e i soldati nella mia casa e la gente. Gli dissero che c'era gente a laguna che teneva nascoste delle spie imperiali. Il governo sospettava di tanti e fra i tanti c'ero anch'io perché mio marito Duarte era scappato con gli imperiali. Fu così che José sentì parlare per la prima volta di me e di Anita come una nemica della rivoluzione. quel giorno era il 23 di ottobre. era lì in casa mia che aspettava come nel sogno che mi aveva raccontato Viejigna quel sogno adesso diventava una cosa vera e io che avevo ascoltato Viejigna senza tremare adesso avevo paura. José non seppe spiegare perché era entrato in casa mia e io non glielo chiesi. restammo a lungo in silenzio ci sembrava di conoscerci da sempre quando ci vedevamo nei giorni dopo il nostro incontro José senza accorgersene mi parlava nella sua lingua che per me allora era straniera. Riconoscevo soltanto qualche parola ma capivo che aveva bisogno di dire a me quelle cose che agli altri ai compagni non riusciva a spiegare. È difficile spiegarlo ma tutto quello che ho fatto finora mi sembra inutile. Si può vivere così solo se ci credi a quello che fai e se non ti accorgi di essere solo. Un uomo come voi non può sentirsi solo. sono diverso da quando vi conosco siete voi che mi aiutate. Io adesso torno a casa è meglio arrivederci scusate. Anita è meglio se decidete di non tornare a casa. Io mi chiamo Anna Anigna. Anita mi piace di più rassegnatevi per me sarete sempre Anita. me ne accorgete che siete prepotente. Vi piace essere obbedito. Vi piace comandare. Cosa credi che non capisco? Io e te ci vediamo poco d'accordo ma sono amico tuo l'unico che posso aiutarti. Come? Quella donna è sposata. Lo so so tutto di lei. E allora dovresti sapere anche che la gente di qui non apprezza le tue visite a quella donna. Non siamo venuti qui per correre dieta alle donne maritate. L'associazione ci impone degli obblighi. Che c'entra l'associazione adesso? C'entra. Stammi bene a sentire questo è un mio affare privato. No. E non devo rendere conto a nessuno. Devi invece. Devi rendere conto di tutto quello che fai perché tu non appartieni soltanto a te stesso. Ci siamo anche noi io, Curio tutti i fratelli di Montevideo il nostro gruppo e ci sono i fratelli in Europa, in Italia. Ma non capisci che non possiamo offrire a questa gente motivi di malumore o pretesti di ostilità? Non ti rendi conto della situazione in cui ci troviamo? Ma non fu questo che ci separò né la gente di Laguna. non ci importava quello che pensavano gli altri di una donna sposata e di uno straniero. Eccoli là i gauchos del Rio Grande. Canabaro li ha messi in fila li ha vestiti di bianco li ha insegnato a non sentirsi più parte del popolo anzi a sentirsi distaccati diversi ed è riuscito a trasformarli in soldati da regalare all'imperatore d'Austria. Chi è l'imperatore d'Austria? Il padrone di mezza Europa. Si chiama Italia il vostro paese, vero? So che è molto lontano da qui. Lontanissimo all'altro capo del mondo. Che cos'altro sapete dell'Italia? So che c'è il papa. ci sono tante belle cose nel mio paese. Sapete perché la guerra mi ha portato qui? Era destino. Era destino che incontrassi voi. Noi due non dobbiamo più vederci, Giuseppe. Non possiamo permetterci di vivere come vogliamo per tante ragioni e allora tanto vale non vederci più. È tardi. Addio. C'era la guerra che rovina e distrugge tutto quello che tocca. Era la guerra che ci costringeva a separarci. Vi consiglio di partire con noi. Dovrete rispondere ai vostri concittadini e agli imperiali della collaborazione che ci avete data. Sono un vecchio che ama questo paese e che non ha paura di morire. Io resto. Procedete. Questa fu la fine della Repubblica di Santa Catarina. L'esercito del Rio Grande a corso a sostegno del popolo insorto e accolto dapprima in modo fraterno si era rivelato agli ordini di Canabarro una truppa di occupazione e adesso si ritirava dalla città proteggendosi da quegli stessi patrioti che l'avevano chiamato in aiuto e di cui aveva tradito le aspettative. cercai José quella notte per le strade al porto fra i soldati repubblicani che fuggivano perché gli imperiali si stavano avvicinando alla città. Ora la guerra ci separava davvero e io avevo paura di perderlo. Canabarro ha detto che tu raggiunga la sua colonna. Hai 30 cavalli per te e per i tuoi uomini. E le navi? Le abbandoniamo, vai non c'è un minuto da perdere. Improvvisamente mi ricordai di Vielligna e del suo sogno e capii che non era finita che non poteva finire così. io non vengo con voi devo tornare nel Rio Grande e avvisare Gonsalves di concentrare tutte le forze a San Gabriel. Addio. Addio. è un ordine di Canabarro e il saluto di un amico voglio che ci lasciamo senza malintesi. Nessun malinteso cerca di arrivare vivo da Gonsalves. Ci rivedremo a San Gabriel. 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 Avanti, alzatevi. Su, forza. Avanti. In marcia. Cosa hanno fatto? Hanno tentato di abbandonare la colonna. Per tornare a casa, hanno detto. Bisogna formare un plotone d'esecuzione. Il contratto che ho firmato con la Repubblica del Rio Grande mi dà la facoltà di arruolare nel mio reparto chiunque sia abile all'uso delle armi. Da questo momento questi soldati passano i miei comandi. Ne fate dei mercenari. Ne farò degli uomini che sapranno di combattere per loro stessi e che non si tireranno indietro. Davanti a quei soldati che si ritiravano, davanti a quella gente senza casa e con un destino incerto, sentii che non avevo sbagliato. Quella era la mia vita e mai avrei desiderato di tornare indietro. che non si tirerò in grado di romano. Io non volevo che lui mi tenesse con sé solo perché non avevo nessuno. Anita non ha bisogno di aiuto. È pronta al freddo, alla fame, ma non vuole un uomo che si sente costretto a starle vicino. Non chiedo niente. Io la mia scelta l'ho fatta. E ora toccate. Io la mia scelta l'ho fatta. E io la mia scelta l'ho fatta. E io la mia scelta l'ho fatta. Sì. E che sarei morta lontana dal mio paese. Anche questo mi ha detto. Non credere a queste cose. Sono tutte superstizioni. Io non ho paura. Io non ho la sua. Anche io non ho la mia scelta. Io non ho la sua. Io non ho. Fuoco! 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 Come risulta dal rapporto del colonnello Albuquerque, la battaglia di Forchiglia ebbe inizio verso le due pomeridiane. Dopo circa mezz'ora di fuoco, benché integri di Forch è in posizione favorevole, gli imperiali si posero in fuga. Giù! Ma cosa fai qui? Così mi sento più sicura. La mossa del nemico trasse in inganno la cavalleria repubblicana, comandata dal generale David Canabarro. Questi ordinò infatti di inseguire i fuggiaschi. Merri, dove andate? Questa ritirata è sicuramente una trappola e Canabarro ci sta cadendo dentro. Mi servono dei volontari. Vengo io! Vengo con te. No, tu resta al comando della colonna. Affido a te! Di sopra! Di sopra! Di sopra! La gola di Forchiglia, circondata da una fitta vegetazione, era stata scelta dal generale Francisco de Abreu, detto il Moringhe, come il luogo più adatto per l'imboscata. Spendio! 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 Giù da cavallo! Fuoco! 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 Ra! ! Ra! 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 a cavallo l'intervento di Garibaldi valse a togliere da una situazione disperata il generale Canabarro che trasse profitto dall'audace diversione per uscire dal pericolo con la maggior parte della sua cavalleria gli uomini di Canabarro e di Garibaldi si riunirono al guado del rio Dascanoas metà degli uomini non si muova dal fiume tutti gli altri attaccare la colonna no 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 furono catturati 120 fra soldati e civili come ti chiami? Maria Vasquez tu chi sei? il nome? mi chiamo Anna Ribeiro da Silva no no sono Anita Garibaldi sei la donna di Garibaldi? si sapete dirmi se è vivo? non l'ho visto prova a cercarlo tra i morti se non lo trovi allora vuol dire che è rimasto dall'altra parte del fiume e io ci ho lasciato metà dei miei uomini di guardia lungo il fiume non potrà venire a liberarti i prigionieri venivano sgozzati per dare loro una morte rapida non Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Nel luogo in cui Anita attraversò il rio d'Ascanoas esiste oggi un villaggio chiamato Anita Garibaldi. A Laguna, dove nacque Ana Ribeiro da Silva, esiste un monumento che la ritrae in fiero atteggiamento. Il museo storico della città è pieno di cimeli e di ritratti. Il nome che ricorre più spesso è quello di Anita, diminutivo spagnolo di un nome portoghese. Grazie a tutti. 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 Mettite le guardie a nord. Tu e un altro, là in cima. Scarichate le bestie. A lei ci penseremo io e Gaberica. La guida dice che il sentiero finisce qui, dopo non ci sono più sentieri. Prova a dirgli che i Caramaru hanno perso le nostre tracce. Chi sono i Caramaru? La guida li chiama così, i brasiliani. Digli che non ci inseguono e che non c'è pericolo. E digli che sentieri o non sentieri andremo a sud. Non ho bisogno di niente, grazie. Occorre avere una qualche conoscenza delle foreste di questa parte del Brasile, per potersi formare un'idea delle fatiche sofferte da una truppa priva di mezzi da trasporto e di vivere. Là dove non si avanza per l'intrico della vegetazione e tagliandosi il sentiero passo a passo. Ciò che con parola di quel paese dice si piccata. E non è infrequente che senza guide esperte, e anche talora con queste, si possa sbagliare la direzione del sentiero e inoltrarsi verso morte sicura. Poiché così fitta è la vegetazione, così estesa è la selva, così lento è il procedere, così scarsa è il nutrimento offerto da quella natura selvaggia, che oltre pochi giorni, non trovando uscita, nessuno potrebbe resistere. A presto, a presto, a presto. Sai, oggi parlavo con Andreu e Jacinta. Sono lontani da casa da quasi cinque anni, e a due giorni da qui il loro paese, è vicino. No, non possono andarsene. Imperiali! I moriti! Mettetevi a riparo! Prendete le armi! Grazie! Era uno dei nostri cavalli, lo ha preso la guida per scappare. Mi dispiace per il cavallo. E l'apportizzazione ! Mettete! Mettete! Nascondetevi Siete brasiliani? Sì Vi siete persi? No signore Dov'è il vostro reparto? Più a nord, a Lages E dove andate? A casa Noi siamo di San Simon Sta a dieci giorni da fine al sud Lo so Dunque siete riograndesi? Ci hanno arruonato nella divisione a pugno E avete disertato? No, ci hanno lasciato andare Per ora La guerra è finita Almeno così hanno detto Chi l'ha detto? L'hanno detto tutti Gli ufficiali I soldati Un po' tutti Bene Se è finita davvero Ce ne accorgeremo presto Anche noi andiamo a sud Se volete potete unirvi a noi Io ho avuto spesso esperienza Di quanto più ferocemente Si combatta una guerra Che sia tra uomini Dello stesso paese E io vedevo ora Quegli uomini parlarsi Nei bivacchi della nostra ritirata Come fratelli Pensavo che davvero La guerra era lontana Il pensiero della casa Il desiderio di un po' di pace Ci univa Dispersi e lontani dai capi Al di sopra Delle opposte bandiere Sarà davvero finita la guerra? Non credo Ci saranno state delle offerte di pace Bisogna vedere però se le accetteranno Offerte di chi? Non lo so Nostre penso Un villaggio di Indios L'avete visto? Sempre abbandonato Che facciamo? Andiamo a vedere Vi erano Fra le tribù dei primitivi abitatori del continente Alcune che prese le nostre parti Combatterono gli imperiali Altre restarono indifferenti verso entrambi Altre infine Si dichiararono contro di noi E' tutto in ordine Solo che manca la gente Guardate nelle case Guarda cosa ho trovato capitano Oggi mangiamo Riportali dove li hai trovati In queste case non si tocca niente Intesi? Feliziana Feliziana Tu sai perché sono spariti lasciando tutto così in ordine Scusa Scusa Ancunu Am malicious Li Im Grazie a tutti. 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 Noi altri non vogliamo scappare. Vogliamo solo tornare a casa. Voi siete straniero. Non potete capire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono stati gli imperiali. Un'ora fa. hanno attaccato all'improvviso e sono spariti. in Grecia, in Francia, in Francia, in Spagna, in Portogallo e infine al pari di me, era stato costretto a lasciare l'Europa. anche in America si era segnalato. per i ritorno per i ritorno. per i ritorno per i ritorno per i ritorno. e per i ritorno. mi sono già salutati, mi sono già salutati, mi sono stati già salutati. italiani qui siamo rimasti noi due. I miei amici sono tutti morti, mi restano solo i fratelli di Montevideo. Ragione di più per andare a Montevideo. E voi? Andrò a Buenos Aires, ho degli affari da sistemare laggiù. Datemi letta, la Repubblica di Rio Grande è finita. Così terminò la guerra tra la Repubblica indipendente del Rio Grande e l'impero del Brasile. Garibaldi andò a Montevideo con una mandria di buoi che il governo del Rio Grande gli aveva dato come liquidazione del suo contratto di guerrigliero. Eccomi dunque truppiere, cioè conduttore di buoi. In cammino per Montevideo fui costretto a servirmi di alcuni mercenari, la cui furfanteria dovevo sperimentare per strada, insieme con la mia imperizia che aumentava le difficoltà. Ostacoli innumerevoli si trapposero al nostro avanzare e soprattutto il passaggio dei fiumi che affaticava gli animali e non si effettuava senza perderne molti. Mi resi conto che non avrei portato alla meta se non pochi cani e anche questi, poiché spossati non potevano proseguire, avrei dovuto risolvermi ad ucciderli per togliere il cuoio, unica ricchezza che potevo portare con me. La conclusione fu che ne ricavai a malapena il necessario per portare a termine il viaggio per arrivare a Montevideo. In Montevideo fui accolto in casa di uno dei miei amici per nome Napoleone Castellini. Alla sua gentilezza e bontà, unita a quella di sua moglie, troppo io devo per potermi in qualche modo sdebitare. Ci fa un tale piacere avervi qui in casa, vero Angela? Potete stare qui finché volete, tu e tua moglie. Io non sono sua moglie però. Sì, non abbiamo avuto il tempo di sposarci. Che c'è, ti vergogni? Siamo repubblicani e liberi pensatori in questa famiglia, lo sai? Come si chiama? Menotti, Menotti Domenico, Domenico. Avevo sentito che in Brasile ti hai riunito una specie di selvaggia che cavalca come un uomo e che non ha paura di niente. Invece è una bella figliola. Allora approvi la mia scelta. Approvo, ma dico anche che hai avuto fortuna, come al solito. Se c'è una donna che è fatta per te prima o poi la devi incontrare. Sono venuto in America per trovarla. Da parte del console del regno di Sardegna in Montevideo. Per amichevole informazione, al console pontificio in Montevideo, al console di sua maestà il re di Napoli in Montevideo. Da voci raccolte nella comunità italiana qui residente, sembra accertata la presenza in città del noto José Garibaldi. Trattasi del medesimo Garibaldi Giuseppe condannato a morte dal regio tribunale di Genova per diserzione, alto tradimento e tentativo di sedizione contro il governo. Qualificato dal governatore legittimo della provincia del Rio Grande del Sud come mercenario al soldo dei banditi rivoluzionari. Cuneo. Fratello, ora e sempre. Disperavo di rivederti. E io di rivedere te. Questo è Antonini, uno dei fratelli più influenti dell'associazione. Buongiorno. Buongiorno. Castellini mi ha raccontato del tuo disastroso viaggio fin qui. Mi sono rimasti quattro scuri. Non ti devi preoccupare. Non voglio abusare dell'ospitalità di Castellini, tanto più che non sono solo. L'importante è che tu sia tornato sano e salvo. C'è molto da fare qui. Ho ricevuto una lettera da Mazzini. Mi hai ancora chiesto come sta, cosa fa. Non ti interessa avere le sue notizie o ne hai già avuto? Mazzini è la prima persona di cui abbiamo parlato. Mazzini vuole riorganizzare la giovane Italia. Questa di Montevideo sarà la sede centrale per tutta l'America del Sud. I nostri compatrioti qui sono ormai più di 4.000, la seconda colonia straniera dopo i francesi. Tu capisci bene che il campo delle nostre attività si è molto ingrandita. È da un anno che stampiamo un nuovo giornale. Per ora è settimanale, poi si vedrà. Lo distribuiamo gratis, sia ben chiaro. Ma vogliamo passare di là? Vieni, staremo più comodi. Fratello, c'è una cosa che mi preme dirti senza che tu la prenda come un appunto personale perché non lo è. Non dobbiamo ripetere l'errore fatto a Rio Grande. Sì, d'accordo, c'era la guerra, ma noi abbiamo trascurato il nostro apostolato. Voglio dire, non abbiamo fatto tutto quello che noi potevamo fare. Non capisco. Mi stai rimproverando di essere rimasto vivo. Io no. Perché? Gli italiani che erano con me si sono sacrificati per la libertà del Rio Grande. Tutti. Perché tutti, lo senti compreso, vi siete trasformati in combattenti. Il nostro primo dovere era quello di difendere la Repubblica del Rio Grande contro l'impero del Brasile. Fratello. E quando ti ho chiesto di mandarmi su Carniglia agli altri, non era solo per avere dei fratelli accanto a me, ma anche dei marinai. E tu saperi che li avrei arruolati nei miei equipaggi e che avrebbero combattuto. Fratello, non ho detto hai sbagliato, ho detto abbiamo. Dovevamo fondare nel Rio Grande un'associazione politica sul modello della giovane Italia. Dovevamo creare il giovane Rio Grande. E non ci siamo riusciti. Non per colpa nostra. De Almeida e molti altri erano favorevoli. Ma i militari hanno preso il sopravvento. Perché noi non siamo stati capaci di suscitarli contro una vasta opposizione. E come avremmo potuto? Appoggiandoci a chi? Con la voce di chi? Se non avevamo un'associazione politica che sapesse farsi rispettare. Ma qui in Uruguay non rifaremo lo stesso errore. Qui a Montevideo ci occuperemo soltanto del nostro apostolato. Io non mi sono mai tirato indietro. Ma ci sono cose che so fare e cose che non so fare. Alla testa di un pugno di uomini in gamba. Io credo di aver fatto... Io credo che dopo la capacità di ben dirigere il maggior merito consista nel sapere come e quando obbedire. Sono parole del fratello Mazzini. Sì. Che ci ha dato istruzioni precise. È tanto tu che io, come Castellini e gli altri fratelli, abbiamo giurato di uniformarci a queste istruzioni. Non l'ho dimenticato. Spero solo di non finire i miei giorni dietro la scrivania di un giornale. Non temere. La tua fama cresce ogni giorno. E il tuo nome dà prestigio all'associazione. Ma il tempo dell'avventura corsare dei colpi di mano è finito. Mi rendo conto di chiederti un atto di umiltà. Ma devi dimenticare di essere stato il capitano Garibaldi e tornare ad essere il fratello Borrell. Piuttosto resta il problema del pane quotidiano. Troverò un lavoro. Non è così semplice. Il fratello Garibaldi ha un conto in sospeso con le autorità per la faccenda del combattimento navale a Maldonado. Se non sbaglio, quella volta un paio di soldati uruguayani ci ha rimesso la pelle. Risolveremo anche questo problema. Abbiamo degli amici che possono arrivare dove noi non possiamo. Bene, signor Dias. Confido in una rapida soluzione della vicenda. Senz'altro. Ci mancava il corsaro per semplificare la vita. Scrivi. Dunque. Al signor ministro della guerra, generale Paceco Iovez. 11 settembre 1841. In data odierna il dottor Florenzio Varela, giornalista argentino fuoriuscito per motivi politici e persona nota per la simpatia verso il nostro governo, è venuto a pregarmi di sollecitare una completa amministia a favore dell'italiano Garibaldi, il quale fu protagonista, in qualità di comandante della Marina dei Repubblicani Rio Grandesi, dell'azione corsara contro un lancione della nostra Marina nelle acque di punta che susse Maria e che attualmente si trova qui a Montevideo. Questo Garibaldi è persona molto pericolosa per la legalità, come risulta dai rapporti confidenziali dei consolati del Regno Sardo e dello Stato Pontificio. Sarebbe quindi ottima cosa distoglierlo da qualsiasi proposito di attività politica, il cui riferito Garibaldi desidera consegnare una dichiarazione scritta sui principi che intende oggi seguire. È una formalità, una semplice formalità, ve l'assicuro. Vi ringrazio, dottor Varela, ma se non mi si permette di vivere qui in Uruguay, se non posso guadagnarmi la vita me ne andrò. Non ti si chiede altro che una dichiarazione generica di sottomissione, tanto per accettare l'amnestia. Del resto non è questo che vuoi, trovare un lavoro per te e per la tua famiglia e non dovere dire grazie a nessuno. Castellini, io non rinnego, non posso rinnegare quello che ho fatto. Sì, ma le autorità uruguayane vi chiedono soltanto di rinunciare ad attività contrarie agli interessi di questa Repubblica, qui e ora. Quanti discorsi inutili. Se Giuseppe firma trova un lavoro, altrimenti, per favore, datemi con la carta. Me la leggete? Dichiarazione sottoscritta. Il signor José Garibaldi, suddito italiano, oggi residente nella città di Montevideo, capitale dello Stato, dichiara che, avendo in altro tempo comandato forze combattenti del Rio Grande, rinuncia oggi a prestare qualsiasi servizio di quel genere e si impegna a non commettere atto ostile qualsiasi contro la Repubblica dell'Uruguay o i suoi alleati. Dichiara che oggi il suo fine è interessarsi unicamente del commercio e di altra lecita occupazione. Ecco, è tutto qui. Firma, José. Se è questo che vuole l'associazione, sono pronto a firmare. Ma è il fratello Borel che firma. Perdonami. Mi perdoni? Di che cosa? Di quello che ho fatto oggi. Quella storia della firma sembrava che comandassi io. Il signor Varela avrà pensato che faccio sempre così. Eh, può darsi. D'altra parte se l'aspettava. Perché? Vuoi che Castellini non gli abbia detto quello che ha detto a me? Che mi sono portato dal Brasile una bella selvaggia? Bella, ha detto. Certo. No, davvero, dico sul serio. Ha detto bella. Sì, e adesso dovrebbe dire anche vanitosa. Tu non lo capisci. Che cosa non capisci? Non lo immagini neppure perché te l'ho chiesto. Da quando ho avuto Menotti mi sento invecchiata. È come se fosse passato tanto tempo. E ho paura. Paura di che? Di perderti. E penso, proprio ora che comincio ad adattarmi, Menotti mi dà molto da fare, è vero. Ma non ha nessuna importanza. E non mi importa neanche che non abbiamo un soldo. Sono contenta, sai, che ora tu facci una vita diversa. Una vita normale. Prima avevo sempre il terrore che ti uccidessero. E adesso che non c'è più pericolo, ho paura lo stesso. Ho paura di perderti in un altro modo. Mi vedo sciupata. E allora penso che tu... Per questo volevo sapere se è vero che qualcuno mi trova ancora bella. Io ti trovo bella. E questo dovrebbe bastarti. Il giorno 26 marzo 1842, Don Senone Aspia Su, mio coadiutore in questa parrocchia di San Francesco d'Assisi in Montevideo, autorizzò il matrimonio di Giuseppe Garibaldi, di nazionalità italiana, figlio legittimo di Don Domenico Garibaldi e di Donna Rosa Raimunda, con Donna Anna Maria di Jesus, nata in Laguna del Brasile, figlia legittima di Don Benito Ribeiro da Silva e di Donna Maria Antonia di Cridus. Uruguayani, alle armi. Il Presidente della Repubblica si accinge a una vittoria sul tiranno di Buenos Aires che porterà una durevole pace. Figli della colta Europa, stranieri tutti, questo ci riguarda direttamente. Benché esenti dall'obbligo di prendere le armi, radunatevi se ci volete aiutare a difendere questa terra ospitale che vi offre per il futuro immense speranze. Eleggetevi dei capitani e scegliete l'organizzazione che giudicate più conveniente. Siamo qui per decidere. Non c'è niente da discutere. I francesi hanno già formato una legione di 2000 uomini. Il nostro programma quindi è chiaro. Radunarci, scegliere i capi e organizzarci come vogliamo. Sarà anche un modo per contarci, per sapere veramente come risponde la comunità italiana a un appello che venga da noi, dalla giovane Italia. Non molto tempo fa, e voi dovreste ricordarlo, perché eravate tutti i miei clienti, io giravo Montevideo quotidianamente, per lungo e per largo, casa per casa, bottega per bottega. Vendevo seta, formaggio. Vi ricordate? Bene, mi metterò in giro di nuovo. Ma non sarò solo questa volta. Mi aiuteranno gli amici che vedete accanto a me su questo palco. Che cosa vogliamo? Lo sapete benissimo. Si tratta di contribuire alla difesa di Montevideo. E noi possiamo farlo formando un gruppo, una legione italiana. Nome? Agugiar Andrea. Perché ti vuoi arruolare? Il governo uruguayano mi ha liberato per questo, perché mi potessi arruolare. Va bene, ma perché nella legione italiana? Beh, ho sentito che voi avete combattuto nel Rio Grande per liberare gli schiavi. Va bene. Avrai ordini. Il tuo nome? Burlano Antonio. Di dove sei? Sono nato a Civitale del Friuli. colonnello Mancini, agli ordini. Ci arruoliamo. Vi presento alcuni ufficiali di Stato Maggiore. Il colonnello Missaglia. Scrivete, è un ottimo organizzatore. Missaglia Luigi. Vaccarezza David. E il capitano Saroldi. Saroldi Santiago. Perché non scrivete? Chi vi ha dato questi gradi? Un ufficiale deve essere arruolato con il suo grado, generale. Non sono generale. Dove avete servito? Il re di Piemonte e la Repubblica dell'Uruguay. Re e Repubblica. Militari di professione. La legione italiana all'inizio non percepiva il soldo. Gli uomini ricevevano solo razioni di pane, vino, olio e sale. Era però convenuto che dopo la guerra si darebbero ai superstiti o alle mogli e ai figli degli estinti terreni e bestiame. Ma le cinque in caserma. Siamo in tesi? Sì, signore. Puoi andare. Avanti un altro. Anzani Francesco. Ho ricevuto la vostra lettera, colonnello. Ti prego di non chiamarmi colonnello. Vediamoci del tuo. D'accordo. Ma il tuo grado fallo rispettare, se vuoi che questi diventino dei soldati. Hai già preso contatto con i fratelli dell'associazione? Con i pochi che conosco. Il generale Paceco Iobes era venuto in quei giorni dalla città di Mercedes avendo reclutato in pochissimo tempo una forza di 1100 uomini dai 14 ai 50 anni di età. Nei primi tempi la legione era stata ospitata in un convento. Adunata! Adunata! Svelti! In fila, in fila! Avanti, presto, presto! Agli ordini, signor Ministro. La forza è tutta qui? No, non tutta. Ci sono altri legionari che non possono essere presenti tutto il giorno. Le loro occupazioni non lo consentono. Ma frequentano la caserma ore fisse. Dagli italiani in questo momento non si può tenere di più. Sono venuto con uno scopo preciso per raccomandarvi questi ufficiali. Sono uomini di guerra. Vi saranno utili nell'organizzare la legione. Buongiorno, signor Ministro. Buongiorno. Mi hanno detto di essersi già presentati a voi. Vi garantisco che i gradi che portano sono stati guadagnati al servizio del nostro paese. Brucia. Da morire. Resisti. Questo ti scioglie le ossa. Accidenti, la medicina brasiliana. Parla più piano. Che svegli i bambini. Pensa se ti vedessero così. Non ti converrebbe. Pensa. La madre che tortura il padre. No, non parlavo dei figli. E di chi allora? Delle tue ammiratrici. Dai, non così. Avvertimi prima. Quando passi per strada si voltano tutte. Anita, via. Ma è possibile che tu non capisca che a me non... Non dire che non è vero. Non bastano i pensieri che ho. Direi un'idea. Anche la gelosia adesso. Sono belle le donne di qui. Belle e sfruttate. Anita era diventata gelosa. L'effetto della sua solitudine. Poiché era rimasta straniera in quella città. Ma era anche effetto delle tante preoccupazioni che mi tenevano lontano da lei. Un tempo unita a me anche in battaglia. Questa è per te. E questa per l'altra. Valeggio le fa un affare, signor Garibaldi. Le avevano ordinate qualche tempo fa per i lavoranti del mattatoio di Buenos Aires. Poi è venuta la guerra e la merce è rimasta qui. Ma sono di panno buono, guardate. E ve le do a metà del loro prezzo. Che te ne pare? Casacche rosse. Perché no? Come la fanteria inglese. È anche il colore delle truppe nemiche. Servirà a confondergli le idee. Ci è stato ordinato di alleggerire la pressione dell'assedio, operando alle spalle del nemico. È una missione importante e difficile. Nessuno se lo nasconde. Tu ti chiami Coccelli? No, Sacchi Gaetano. Coccelli sono io, signor colonnello. Coccelli è Angelo. Ma è stato il fuoco, naturalmente. E quella tromba? Sono maestro di musica. Maestro? No, insomma, faccio canzoni e compongo inni. L'attacco lo sai suonare? Volete sentirlo? E la ritirata? Quella no. Imparala, serve anche quella. Molte di voi diranno non abbiamo esperienza della guerra. Anche gli uomini che avevo nel Rio Grande non erano esperti. E hanno fatto miracoli. Ma combattevano per un ideale. Ecco perché. Io mi sono messo in testa di fare di voi dei combattenti della libertà. E sono abbastanza ostinato per riuscirci. Usciremo con due battaglioni. Uno lo comanderà il colonnello Mancini. L'altro il tenente colonnello Anzani. Un'ultima cosa. Avremo addosso gli occhi di tutta Montevideo e degli stranieri che sono qui. E forse anche degli italiani che stanno in Italia. Facciamoci onore. Facciamoci onore. Il fondo nero perché? Finché l'Italia non sarà libera, dobbiamo portare il lutto. E questo cos'è? L'Etna? Il Vesuvio? Il Vesuvio? Che butta fuoco. E il fuoco e la rabbia dei patrioti che esplode. Mi piace. Questa sarà la bandiera della legione italiana. E il Vesuvio? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Seguitemi. Seguitemi. Grazie a tutti. Questa notte il colonnello Mancini ha disertato e con lui anche alcuni ufficiali e venti soldati. Se si fosse voluta fare una scelta fra buoni e cattivi, è certo che non si sarebbe potuto fare meglio. Questi due sono stati sorpresi mentre distribuivano questi manifestini. Leggirlo tu. Legionari, vi giuro sotto parola d'onore che siete ingannati. Passate all'esercito di Uribe, che è poderoso e enorme. Venite, sarete ricevuti a braccia aperte e ben pagati. Non date retta a quell'infame di Garibaldi che con le sue belle parole cerca di tenervi schiavi per sua convenienza. Fra poco questa guerra avrà termine e allora conoscerete i vostri veri amici. Ma se non abbandonate quell'infame che vi ha venduto all'assassino Paceco, rimarrete poveri, spogliati e senza protezione. Firmato, colonnello Angelo Mancini e capitano Saroldi Santiago. Colonnello, che si fa di quei due? C'è un'attrazione tra i vili, come ce n'è una tra i forti. Da quel giorno i traditori non ci appartennero più. Il loro posto era altrove ed essi lo avevano trovato. Nei primi mesi del 1846, Garibaldi ebbe l'ordine di spostarsi con la legione verso il territorio di Salto, sul fiume Uruguay, per congiungersi con le truppe del generale Anacleto Medina, che scendevano dal Rio Grande. L'incarico era di vitale importanza per la campagna in corso, poiché la regione era ancora presidiata da ingenti forze nemiche al comando del generale Servando Gomez. Garibaldi divise la legione in due colonne, mandandone una al comando di Anzani a prendere posizione nella fortezza del Salto. Con le rimanenti forze, Garibaldi si dispose a marciare incontro al generale Medina. Alla commissione della legione italiana in Montevideo. Fratelli, ieri l'altro fu combattuta da noi nei campi di Sant'Antonio, a una lega e mezza dal Salto, la più terribile delle nostre battaglie. Era il giorno 8 febbraio 1846, alle undici e mezzo antimeridiane. Che si fa? A terra! Ti aspetteremo qui. Avevo già visto quanto fossimo inferiori di uomini. Speravo solo che le nostre armi fossero più efficaci. A noi si era unito in quei giorni un drappello di cavalieri, agli ordini del colonnello Weiss. A noi si era unito in cui si parleva. Quel distaccamento nemico apparteneva all'esercito del generale Servando Gomez. Anche essi erano seguiti da un drappello di cavallerie, che per nostra fortuna era impedita nelle manovre dal terreno sfavorevole. Aspettate che siano a pochi passi, e poi dentro con la baionetta! Adesso ai vostri posti! Via! Via! Avevo dato l'ordine di non sparare finché io non avessi sparato per primo. Sapevo che questo mi avrebbe procurato delle perdite, ma era necessario. Bisogno! Quando il nemico fu a 30 passi dal nostro schieramento detti agli uomini l'ordine di puntare Fuoco! Avanti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non inseguiamo gli sacchi, ritorniamo alle nostre posizioni. Via! Grazie a tutti. 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 Fuoco! Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. a tutti. e 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 tutti. e tutti. e tutti. e... e tutti. 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 e... e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti.